benvenuti a tutti ho iniziato la registrazione con il vostro permesso oggi parliamo con laura anello per una questione molto rilevante dei borghi la parte storica la parte culturale e la splendida esperienza che in quel di sicilia ha avuto questa fondazione di cui è presidente la via dei tesori con le vie dei tesori non ricordo perfettamente le vie dei tesori sempre meglio e passo subito la parola laura per questa sua illustrazione in questo momento storico in cui c'è molta dialità in molta attenzione molte speranze sui borghi anche per tutto il vissuto pandemico a te laura grazie grazie a tutti io parlerò un po abbraccio in realtà perché è talmente in questo momento materia viva quella di cui ci stiamo occupando che probabilmente è meglio andare un po per così senza schemi preordinati partiamo brevissimamente perché molti di voi lo sanno già e perché non voglio tediare con quello che noi facciamo da che cosa noi stiamo portando avanti in sicilia ormai da qualche tempo la fondazione nasce nel 2006 esiste da o meglio della nostra realtà che poi è stata riconosciuta come fondazione nasce dal 2006 ehm e nasce a palermo eh quindi in una grande città eh nasce dentro l'università di palermo con la consapevolezza del grande potenziale eh della cultura di tutto quello che si elabora dentro le istituzioni culturali che spesso purtroppo resta dentro ehm cerche gli addetti ai lavori eh non diventa patrimonio spendibile di crescita eh civile sociale economica e quindi il progetto nasce come un progetto oggi si parla di terza missione quindi di trasferimento all'esterno di conoscenza e si concretizza in un ehm inizialmente in un festival ormai è un progetto che va avanti tutto l'anno che nel tempo è diventato eh il più grande festival a Palermo dedicato alla scoperta dei beni culturali con adesso in realtà da parecchi anni si svolge in tutta la Sicilia in venti città della Sicilia vedo eh dei dei miei sindaci buonasera al sindaco di di Geraci Siculo eh quest'anno vincitore morale della competizione dei borghi più belli d'Italia e quindi si sviluppa in in tutta la Sicilia eh facendo che cosa? Eh mappando scoprendo eh aprendo alla al pubblico raccontando perché adesso parleremo di quanto potente lo strumento della narrazione eh centinaia di luoghi messi a rete digitizzati e messi a sistema e quindi eh luoghi pubblici luoghi privati luoghi delle più diverse titolarità ehm non soltanto convenzionali quindi non certo soltanto musei palazzi terrazze giardini eccetera e costruendo quelli che noi quello che noi ormai con un termine eh che voglio dire forse siamo stati un po' pionieri nell'usarlo adesso si parla tanto di musei diffusi ecco costruendo musei diffusi nelle città visitabili in maniera trasversale quindi con un unico strumento di visita che consente la eh la 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 produzione trasversale di questa esperienza ehm ai luoghi si sono poi affiancate esperienze tour eccetera oggi via dei tesori è il più grande progetto di valorizzazione dei ehm patrimonio culturale della Sicilia con ehm ultima edizione del festival pre covid quattrocento quattromila visite in otto fine settimana ehm abbiamo fatto siamo stati tra i pochi progetti che è andato avanti nonostante la pandemia in presenza duemilaventuno circa duecentoquarantamila visitatori ora al di là delle dei numeri quello che a noi ha sempre interessato fortemente prima ancora della proiezione turistica è quella che chiamiamo costruzione di comunità convinti che eh senza una costruzione di comunità ehm non eh non ha neanche senso parlare di attrattività e non ha neanche senso parlare di turismo prima bisogna costruire una comunità che si ehm riconosce nel suo patrimonio che lo vive come una eh leva identitaria come uno strumento di crescita ehm civica e nel tempo via dei tesori è diventato anche un attrattore turistico naturalmente per tutti coloro che arrivano e vivono hanno la possibilità di vivere eh delle città eh tutte aperte, fruite, raccontate e messe a sistema. Questa è la premessa un po' lunga ma doverosa per raccontare che cosa abbiamo poi eh costruito nei borghi l'anno scorso. Noi abbiamo pensato di portare questo modello in un sistema di eh parlo volutamente di sistema e adesso voglio parlare anche di questo bando rispetto alla mancanza di sistema che c'è in questo ragionamento che sottende alla al bando del Ministero dei Beni Culturali. ehm ecco noi abbiamo strutturato una rete di eh cinquantotto borghi siciliani eh che con grande fatica abbiamo ehm racchiuso in una eh associazione cioè abbiamo non abbiamo soltanto eh realizzato una un partenariato, un circuito più o meno eh estemporaneo ma abbiamo costruito con loro una eh nuova eh realtà che si affianca alla fondazione quindi costituita dai comuni e dalla fondazione e mh abbiamo realizzato in questi comuni la prima edizione del nostro festival che noi diciamo sempre chiamiamo festival ma in realtà è la proposizione di un modello. Abbiamo mappato eh censito, digitalizzato più di duecentocinquanta luoghi del patrimonio eh assolutamente sommersi e sottoutilizzati quando non ehm chiusi, sconosciuti eh straordinari, castelli ehm osservatori astronomici ehm parchi minerari ehm palazzi privati davvero portando fuori una straordinaria ricchezza ma soprattutto ehm costruendo comunità. Che cosa intendo dire? Intendo dire che eh più di cinquecento ragazzi in tutta la Sicilia si sono ritrovati attorno a un progetto. Ricordiamo che sono borghi che come gran parte dei borghi, parola che piace poco forse a questo punto anche a me, mh ha dentro una certa retorica la parola borgo, no? Una retorica un po' arcadica, in realtà sono città, sono cittadine. Eh comunque cinquecento ragazzi hanno cominciato e adesso porteremo avanti un processo di formazione che è partito proprio dalla idea di restituire valore, oggi si parla di empowerment, io preferisco sempre un termine della nostra lingua italiana, insomma ricominciare a acquistare consapevolezza della loro ehm delle loro radici, di che cosa hanno sotto casa, del valore potenziale del loro patrimonio. Capite bene che tutto questo in borghi che hanno tasso di spopolamento notevolissimo eh tassi di invecchiamento enorme e dove eh spesso l'unica speranza o forse l'unico sogno dei giovani è quello di guadagnare una via di fuga per andare altrove, provare a restituire valore e eh restituire consapevolezza di questo valore è un'operazione abbastanza voglio dire eh rivoluzionaria, abbastanza potente. D'altronde mi piace sempre ricordare che nelle città eh negli anni in cui operiamo è accaduto spesso che i ragazzi che hanno fatto con noi dei pezzi di di percorso eh hanno poi deciso di restare a operare nelle nella loro città eh a fronte di una eh narrazione di un esodo apparentemente inarrestabile. Ehm il il tema dei bordi quindi per noi è stato subito fondamentale e entro nel merito del bando di cui parla in questo momento tutta Italia, costruire una rete, costruire un circuito. Ehm consapevoli che ehm soltanto fare rete anche ehm a livello interterritoriale può spezzare quella logica di campanile che in realtà eh per molti eh di questi comuni è stata una logica ehm da un canto ehm eh certamente ehm come dire aggregante a livello di comunità ma anche molto penalizzante perché ehm un alto livello di conflittualità, una scarsa capacità di collaborazione, una visione spesso non troppo eh eh disponibile a eh intrecciare ehm partenariati, a ragionare in termini di eh di di messa a sistema di risorse. Eh questo lo si dice anche letteralmente. di quanto la Sicilia si è fatta di grandi individualismi e di poca capacità di mettere a sistema risorse. Anche perché mh se eh si deve andare verso una forma ehm di eh costruzione di comunità ospitante, si deve guardare a quel turismo che molti di questi comuni guardano come alla salvezza ma che è un punto d'arrivo e non un punto di partenza. Si deve comunque costruire sistema, cioè non succederà eh facilmente che un turista venga eh in Sicilia per visitare un uno e un soltanto uno soltanto borgo eh che magari ci metterà veramente decenni a costruire un marketing territoriale così forte da diventare un attrattore ma invece cominciare a portare fuori una idea di un eh progetto Borghi di un prodotto Borghi di un sistema Borghi che insieme può costruire invece un circuito di grande attrattività eh si tratta credo che sia una una strada una strada vincente. Ehm questo è quello che ehm mentre aspettavamo di cominciare questo incontro ehm ci dicevamo al di là della linea A eh di questo bando su cui ormai si sono scatenati un po' un po' tutti perché immaginare di ehm eh estrarre con procedure peraltro abbastanza spesso ehm incomprensibili una sorta di vincitore di una venti milioni di euro eh dall'alto peraltro nottate il paradosso. Eh la linea A eh dice sostanzialmente alle regioni chi eh ha fatto poi delle procedure di evidenza chi lo chi come in Sicilia ha scelto senza nessuna eh forma di ehm diciamo di evidenza pubblica eh significa sostanzialmente come una specie di investitura eh monarchica dall'alto cioè io scelgo te come comune pilota. Dall'altro si chiede a questi Borghi che spesso non hanno eh risorse tecniche creative ehm neanche operative eh di eh invece eh costruire una logica di partenariato pubblico privato quindi una logica molto evoluta una logica che parte dal basso che parte da una possibilità di collaborazione eh trasversale proprio nelle nella coprogettazione di interventi sono processi che sono di solito molto molto lenti si chiede ai comuni di farlo in due mesi e di fare questa progettazione dal basso quindi da un canto il ministero eh con la linea A eh designa un fortunato vincitore dall'altro dice ai comuni eh costruite progettazioni dal basso e portate avanti eh i progetti in questo modo. Ehm noi stiamo in questo momento collaborando, affiancando e partecipando a vario titolo alle eh alla progettazione, alla coprogettazione di circa eh di più di venti comuni della Sicilia. Ehm trovandoci spesso non soltanto a fare da partner di progetto ma a eh dovere ehm surrogare ehm eh una serie di eh competenze non soltanto tecniche ma anche di 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 riconoscimento di vocazione che ciascun comune eh si trova a dover fare per esprimere una proposta che sia una proposta eh che risponda agli obiettivi ambiziosi di questo bando perché sostanzialmente si sta dicendo ai comuni a piccoli comuni tagliati fuori sostanzialmente da settant'anni da logiche eh di sviluppo eh inventatevi nel giro di un paio di mesi una eh attività che si va di bene parte vede la la cultura come strumento di rigenerazione va benissimo ma non è soltanto un bel progetto culturale è un progetto che deve fare eh sviluppo occupazione che deve essere sostenibile nel tempo che deve che deve creare occupazione e che deve rendere nuovamente un borgo attrattivo quindi si dice sostanzialmente a un comune deve inventare una start up di impresa ma condivisa collettiva attraverso un partenariato che funzioni oltre questo benedetto duemilaventisei quando le risorse ehm a fondo perduto che ti vengono date ehm eh quando appunto tutto questo intervento si concluderà. Insomma capite bene che è una sfida eh che è una sfida non semplice ehm su cui si stanno intrecciando eh diverse ehm dinamiche eh dal eh dalle grandi eh dai colossi insomma che vengono a porta che arrivano su tutti i territori a portare una progettualità sostanzialmente eh modulare sempre identica eh con la legittima eh aspirazione delle imprese a eh scalare a rendere scalabili dei progetti a espandere il loro business eccetera eh è una ehm forte eh dinamismo eh ma ripeto probabilmente eh insomma eh adito con la necessaria eh con con tempi molto molto ridotti eh di invece soggetti che nel territorio provano a fare a fare sistema. Eh io vi racconterò se riesco a condividere il un un piccolo documento che eh abbiamo eccolo qui vediamo se ci riesco così vi racconto anche eh allora posto condivide lo schermo ecco non so se la si si vede bene. Perfetto. Allora partiamo dall'inizio. Io vi dico un po' eh al netto del fatto che come vi dicevo ehm in ogni comune noi stiamo provando a portare eh intanto ad aiutare il comune nella eh negli aspetti mh centrali che sono quelli di individuare un un tema eh un tema che sia profondamente legato alla propria identità e che risponda alla all'esigenza di questo bando. Eh quindi eh questo che vi farò vedere diciamo è una sorta di cornice eh dentro che poi abbiamo ehm diversamente sviluppato nei diversi territori. Eh eh vi dico qual è il ecco questo può essere eh interessante allora ehm che cosa noi vogliamo fare eh ci interessa trasformare il borgo in un museo diffuso e partecipato dalla comunità quindi che cosa facciamo come nostro diciamo core se volessimo chiamarlo con un termine da impresa eh mappiamo il il patrimonio dei territori eh lo digitalizziamo lo raccontiamo e questo adesso su questo vorrei soffermarmi in ogni momento eh lo rendiamo fruibile con lo stesso strumento di visita ehm favoriamo il protagonismo civico, l'inclusione sociale degli abitanti, formiamo i giovani a diventare comunità ospitante, poi quello che fino a Raffa abbiamo fatto e abbiamo eh raggiunto anche l'obiettivo di incrementare i flussi turistici nelle nostre attività svolte durante questi anni. Questa è un po' la presentazione di quello che siamo ehm l'impatto che abbiamo generato sul territorio e adesso stiamo finalmente lavorando a una bilancio sociale finora abbiamo eh sempre e soltanto eh realizzato insieme con l'Università di con l'OTI e dell'Università di Palermo l'impatto uno studio di impatto economico sui territori. Il nostro festival nelle città genera circa cinque milioni di euro ogni anno eh sui eh territori coinvolti. Ehm questo è il nostro comitato scientifico che mi fa piacere eh presentare magari sono anche eh professionisti che avete incrociato nei vostri eh nelle vostre storie professionali il presidente e il comitato scientifico e un fisico eh d'altronde siamo sotto il cappello di un recovery che dice di guardare in prioritariamente alla alla sostenibilità e al tema della green economy eh Federico Maria Butera è professore merito al Politecnico di Milano è stato tra i primi eh eh diciamo eh promotori degli edifici a impatto zero energia zero lo ha fatto in Italia io ho scoperto grazie a lui che nelle Marche è stata realizzata una delle prime ehm uno dei primi edifici a impatto zero eh il primo in assoluto in Italia in Europa eh a Budapest eh ha lavorato anche con grandi istituzioni internazionali e poi ci sono eh competenze trasversali eh Giuseppe Barbera è un eh ha fatto del è un agronomo ma soprattutto è un grande esperto di paesaggio mediterraneo autore di libri di successo ehm curatore del recupero della colimbetra alla valle dei templi di Agrigento componente del consiglio scientifico dell'associazione italiana parche e giardini storici della fondazione Benetton eh Giacomo Gatti è un persona straordinaria che invece davvero dal basso è sostanzialmente un allevatore eh che poi è diventato imprenditore costruendo nel suo nel suo territorio a Campobello di Licata eh una filiera di produzione di formaggi di qualità da una ehm tipo di di capra la capra girgentana che sostanzialmente era estinta che adesso poi è diventata presidio slow food eccetera eh Paolo Inglese è un d'oltre che docente universitario è direttore della rete di musei e collezioni scientifiche dell'Università di Palermo ha lavorato moltissimo eh sulla agricoltura mediterranea e tropicale Orietta Sorgio invece un'antropologa e allieva di Nino Buttitta e ha lavorato per anni su quello che si chiama patrimonio immateriale e quindi ehm il al centro del catalogo della regione siciliana si è occupata per tanto tempo di ehm della videoteca e della eh nastroteca dove sono stati ehm archiviati e registrati eh canti e ehm sapete bene insomma della grandissima ehm ricchezza eh siciliana in termini anche di canti di lavoro di canti di legati alle attività contadine legate alle attività della pesca legate ai momenti della vita sociale e per chi di post foto lo avete già conosciuto perché si ha ha fatto un eh un webinar qualche settimana fa con voi ehm davvero pioniere del turismo esperienziale relazionale io sono rimasta eh a bocca aperta quando nel suo paesino di poche anni ma di Sant'Angelo Muxaro ho visto che cosa è riuscito a mettere su non solo in termini numerici quattromila visitatori l'anno prima del covid in un paesino che apparentemente avrebbe poco da raccontare secondo diciamo una logica canonica e che invece lui ha trasformato davvero in un luogo di incontro di comunità dove i visitatori che lui preferisce chiamare ospiti trovano case aperte eh possibilità di fare il pane eh nei panifici eh possibilità di andare nelle case ma insomma questo ve l'ha raccontato lui e quindi non mi dilungo ehm che che cosa quindi eh fa eh Biede Tesori ehm il patrimonio del borgo costituisce un sistema integrato digitalizzato e promosso a fianco di una rete di luoghi che noi consideriamo la nostra infrastruttura viene costruita una rete di esperienze di itinerari da offrire escursionisti e turisti capace di incentivare l'attraettività del borgo eh questo è la nostra premessa il fatto che sappiamo bene come il patrimonio può rappresentare eh una leva di tendenza epocale eh per i borghi italiani e nello specifico per il sud non dimentichiamo che parliamo di territori parlo soprattutto di ciò che conosco la Sicilia ma anche la Sardegna ma anche la Calabria dove vale davvero per tutto il territorio italiano dove la crisi della società contadina eh ha sostanzialmente fatto vacillare il modello di eh sviluppo eh che è andato avanti per secoli e eh spesso non si è riuscito a inventare un si è riuscito a inventare un modello di sviluppo nuovo quindi l'obiettivo finale è la costruzione di un sistema turistico integrato è partecipato da promuovere sul mercato che vede protagonisti i giovani del borgo ehm noi eh questo ho preso devo dire ehm sbagliando ma va benissimo uno dei progetti che abbiamo presentato in uno di questi comuni ehm il progetto parte come vedete da un'attività di formazione di cinquanta giovani alla consapevolezza del valore del patrimonio allo storytelling alla narrazione con gli strumenti digitali e all'accoglienza dei visitatori sullo storytelling mi fermo un momento perché lo devo almeno al mio essere giornalista eh attività che eh resta eh per me ehm non soltanto importante ma centrale anche in quello che faccio adesso ehm avete sentito l'ho già raccontato forse anche in questa sede una volta ehm il luogo che ha avuto più successo nella storia del festival che ha aperto ehm chiese eh bizantine mosaici straordinari ehm palazzi nobiliari splendori eccetera è stato eh invece un luogo di ehm fatto di quattro pareti eh scrostate ma quel luogo che è il rifugio antiaereo eh che si trova a Palermo sotto l'edificio comunale quando è stato aperto ha ehm portato eh circa quindici mila persone in un solo fine settimana perché quello era un luogo di comunità era un luogo che ehm per qualsiasi ehm cittadino in quel momento raccontava un pezzo della sua storia di una storia che lo riguardava di una storia che riguardava suo nonno suo padre ehm e questo racconto che noi eh abbiamo 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 avviato e continuiamo sempre a sostenere attraverso eh mediatori culturali esperti del patrimonio eccetera si arricchiva eh continuamente di contributi dei visitatori che arrivavano che non erano visitatori ma qualche volta li abbiamo chiamati visitatori proprio per far capire quanto protagonisti fossero degli stessi luoghi che attraversavano ecco la narrazione è un potentissimo amplificatore di interesse sia quando ehm più eh non voglio dire banalmente ma più nella consuetudine del mio mestiere ehm ci occupiamo appunto di raccontare sui giornali eh sui media quello che ehm che vale la pena raccontare quello che consideriamo di interesse pubblico e collettivo sia quando quella quando la narrazione viene invece utilizzata all'interno di uno spazio e diventa una narrazione condivisa e e collettiva ehm questa mh dopo questa attività di formazione eh l'attività che segue è una mappatura partecipata dai giovani e dalla comunità tutta dei luoghi di interesse storico, culturale eh turistico e dei cosiddetti tesori viventi del borgo così li chiamiamo ehm devo dire che già nella prima edizione del nostro del nostro festival eh abbiamo scovato eh personaggi eh straordinari ehm parlo del vado propriamente del sulle madonie c'è eh l'ultimo si chiama Petrus questo signore fa la manuense credo che sia uno dei pochi rimasti eh a a farlo ehm in una cittadina che si chiama burgio c'è una fabbrica di campane che esiste da seicento anni ed è una delle pochissime in Europa dove ancora si fanno le campane eh con me un metodo antico tradizionale artigianale eh ci sono gli ultimi marmorari ci sono ehm competenze e che portano con sul 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 dentro nel loro ventre secoli di di storia e di e di cultura perché di cultura stiamo parlando dopodiché questo questo eh questi giovani che noi formiamo eh vengono eh chiamati a realizzare eh itinerari ed esperienze turistiche eh ovviamente in collaborazione con le realtà presenti inutile dirvi ma qua insomma spesso ma per chi siciliano non è quando si evoca per la Sicilia si pensa soprattutto al buon cibo al buon vino quindi naturalmente molte di queste esperienze poi attraversano eh aziende agricoli agricole d'eccellenza attraversano eh laboratori artigianali attraversano eh insomma tante buone cantine ehm poi abbiamo in da tempo scelto di passare alla realizzazione di audioguide quelle che chiamiamo audioguide partecipate dei luoghi anche qui non sono delle audioguide asettiche che ci raccontano ehm il dettaglio di un affresco ma sono audioguide che noi realizziamo eh spesso con il coinvolgimento di ehm di 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 gente del borgo convinti che ogni luogo come vi dicevo prima è diverso a seconda di chi la racconta a seconda di chi l'ha vissuto quindi mh è proprio in fondo una raccolta di memoria orale che lì trova una sua ehm codifica e una sua ehm diciamo eh la possibilità di restare di permanere e poi naturalmente il borgo viene inserito nel nostro circuito che ha una eh ormai ehm ampia community eh parliamo di circa 85.000 follower su Facebook noi mandiamo la nostra newsletter a 40.000 persone ogni settimana eccetera e poi ci sono gli aspetti tecnici la piattaforma digitale eh il coupon digitale che adesso fa un po' sorridere perché ci siamo abituati alla al green pass ci piaccia o meno e quindi il QR code è diventato un diciamo una un elemento eh della nostra quotidianità eh prima era più la carta di imbarco quando prendevamo un volo che ci abituava al passaggio veloce eh attraverso un gate ehm questo è una uno strumento che abbiamo ehm messo a punto è perfezionato in più di otto anni è una un uno strumento che consente ehm la fruizione integrata eh di tutti i luoghi e le esperienze messe in rete che viene smarcato eh fino all'esaurimento del suo valore e che soprattutto può essere integrato con altre esperienze turistiche quindi eh è una sorta di carta di imbarco per i eh per un per un territorio e poi beh c'è il racconto eh dei tesori del borgo il la partecipazione del borgo al festival è un'attività che ci siamo inventati quest'anno e che abbiamo riproposto mh sempre eh è il tema del contest attraverso un contest noi scegliamo eh un restauro o un intervento di rigenerazione urbana ehm 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 grazie a ricavato della vendita dei coupon del festival noi non abbiamo mai voluto eh realizzare esperienze gratuite, attività eh pur mantenendo sempre ehm ehm diciamo ehm contributi d'ingresso alle attività eh con costi più che inclusivi si parla a volte di un euro o di due che però per noi sono il segnale di un patto eh non soltanto del riconoscimento del valore di quel che si fa e di quel che si vede ma di un patto preciso tra il cittadino e il visitatore, il cittadino visitatore, il turista che ehm eh come dire partecipa con consapevolezza a un'esperienza e però ehm il il i coupon del festival ci servono poi per eh interventi di restauro e di rigenerazione quindi producono, continuano a produrre come una catena positiva interventi sul territorio. Ehm allora vi questo lo chiudiamo vediamo se sì eccomi ehm questo è eh a grandi linee eh un progetto base eh nel senso che eh su ehm altri territori stiamo eh concependo contribuendo alla nascita di ehm spazi di racconto eh come non so faccio qualche esempio che però forse può essere anche interessante condividere ehm proprio sulle Madonie c'è uno eh uno dei pochissimi anzi l'unico comprensoria al mondo dove ancora si coltiva la manna che per tutti voi ovviamente per tutti coloro che sentono parlare di manna è il cibo biblico no che viene eh che viene che cade giù dal cielo per in Egitto durante la fuga in Egitto e quello è il racconto biblico in realtà la manna viene prodotto ormai soltanto in un piccolissimo comprensorio che sta tra Polline e Castelbuono eh ma porta con sé si ricava dalla da un taglio dei frassini ehm e che poi insomma eh fanno colare la loro linfa che diventa eh si consolida e diventa eh e diventa manna eh un dolcificante naturale ha delle proprietà cosmetiche farmaceutiche eccetera e mh abbiamo immaginato che questo grande patrimonio materiale ma anche evocativo immateriale fosse il filo conduttore di una sorta di eco museo che ehm attraversa che ha nel in un luogo eh di esperienza eh fisica quindi un vogliamo chiamarlo museo ma insomma oggi è una è una è un termine sicuramente riduttivo eh il suo spazio di racconto ma che poi dal museo si estende attraverso i sentieri i frassinetti fino a diventare una un eco museo e altrove stiamo lavorando su altri patrimoni materiali stiamo lavorando sull'epopea della targa Florio eh stiamo lavorando su tanti altri altre suggestioni sempre tenendo presente che eh questi progetti ce lo chiede il ministero devono poi atterrare in una eh con diciamo devono produrre eh devono essere sostenibili e devono produrre occupazione devono produrre sviluppo devono produrre ripopolamento parola grande come una casa quando poi ma questo lo accenno soltanto eh quando poi eh sono territori non soltanto spesso ehm localizzati in aree interne e quindi eh con tutte le difficoltà oggettive dell'essere in aree interne ma sono spesso collegati da strade eh in pessima condizione noi scherziamo col nostro staff perché eh ci abbiamo rimesso non so quanti ehm quanti ganci dei motori e quante sospensioni arrampicandoci mh tra un borgo e l'altro eh e quindi ehm e soprattutto come sappiamo sono eh luoghi che in questi anni hanno subito una deprivazione costante di servizi eh che siano servizi postali che siano servizi bancari che siano servizi sanitari allora eh naturalmente la sfida di un progetto culturale in queste comunità eh è un progetto è una sfida eh eh tanto più eh difficile tanto più ardua se a quella sfida culturale come è giusto che sia vengono attribuite ehm ehm voglio dire eh funzioni quasi salvifiche eh cioè eh viene attribuita la responsabilità di convertire eh il eh destino di un borgo e di tornare a rendere quel borgo attrattivo, popolato e e tutto quello che sappiamo. Eh aggiungo un'ultima cosa e poi vi ascolto se ci sono eh domande o o o curiosità o altro. Eh un progetto a cui teniamo molto che stiamo portando eh anche qui come come credo come valore aggiunto nei nei borghi è un progetto che si chiama eh ho scelto eh il sud ehm ed è un progetto eh che davvero nasce dal mio lavoro di giornalista di questi anni. Io mi sono accorta eh di quanto valore eh di quanta innovazione eh di quanto coraggio ci sia eh eh nel sud specie in un sud ehm se vogliamo dire fuori dalle grandi città quindi se vogliamo dire periferico certamente nei bordi di ehm eh gente che fa delle cose eh bellissime spesso in mezzo a mille difficoltà eh nel turismo, nell'agricoltura, penso alle bellissime ehm ehm strutture che ho visitato dove fanno agricoltura idroponica, penso a alle a tutto quello che in termini innovativi è stato fatto nel mondo nel mondo nel mondo del turismo ma veramente tanto e credo che in questo momento ci sia un deficit di narrazione fortissimo rispetto a questo sud che eh diciamocelo francamente oscilla spesso nella narrazione collettiva tra un sud ancora ehm improduttivo ehm spesso assistito spesso clientelare o d'altro canto in un sud diciamo eroico ehm da eh aiutare sostenere ehm eh ecco io credo che tra l'uno e l'altro ehm modo di raccontare questo sud c'è ehm una una grande narrazione da fare di chi al sud è rimasto, chi è al sud è tornato perché c'è una grande flusso di gente che al sud torna e torna dopo aver fatto esperienze torna a portare innovazione e idee eh non parlo dei south workers che i nostri amici di south working ehm con cui lavorano i nostri amici di south working cioè gente che al sud lavora ma lavora per imprese del nord parlo di gente che viene qui a portare eh viene qui cioè torna eh qui o resta qui a fare eh innovazione e progetti e allora questo progetto che c'è stato finanziato per eh un pezzetto la start up dalla fondazione con il sud in questo momento eh sta censendo cinquanta eh censendo raccontando e producendo audiovisivi sulle prime cinquanta storie che abbiamo eh abbiamo individuato che costituiranno un network che presenteremo a breve proprio all'università di Palermo eh dentro un progetto dedicato al genio di Palermo non so se sapete che il genio è una sorta di nume tutelare della città che viene ancora prima delle patrone e poi della patrona Santa Rosalia che certamente almeno di nome conoscete è un nome laico molto antico che ha un nome bellissimo perché parlare di eh eccellenza di merito di innovazione eh ecco questo progetto adesso lo porteremo in ciascuno dei borghi dei comuni con cui stiamo collaborando ehm immaginando che la diffusione la disseminazione di buone pratiche sicuramente attivi anche attivi anche una dico una parola che è una parola che è una parola che è una parola forte che la parola che è una parola che è una parola che è una parola che è una parola che è la parola doverosa doverosa sempre doverosa forse in questo in questo transente eh storico in cui certamente questi territori hanno una possibilità scusate che ho acceso la luce perché non 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 mi vedevate quasi più e quindi certamente e seminare buone pratiche raccontare di chi ce l'ha fatta, di chi ha costruito, nonostante un contesto non sempre favorevole, nonostante una storica difficoltà di rapporto con le amministrazioni pubbliche, nonostante voglia dire spesso tutto quello che si muove dal basso, ma non vale soltanto per il sud, ma vale più per il sud che per il nord, sia molto ma molto più avanti di quanto invece ancora dalla condizione che vivono molte amministrazioni pubbliche. Io dico sempre che se si contaminasse, se questo portato di innovazione sviluppato dal basso contaminasse positivamente il pubblico, l'Italia farebbe un grande passo avanti. Ecco questo, per concludere questa occasione che ai borghi adesso viene data attraverso questo bando, credo che sia proprio l'occasione di una positiva, oggi col Covid è un termine diventato un po' desueto, ha ragione, ma questa contaminazione positiva tra pubblico e privato, questa necessità di costruire reti, credo che possa essere una leva interessante. Io, Alfonso, mi ho parlato di seguito per ben tre quarti d'ora, spero di non aver annoiato gli interlocutori, ma ovviamente se ci sono delle domande sono qui. Assolutamente, è stato fascinoso sentirti e questo seguito, questo filo rosso di un'esperienza concreta, splendida, esemplare. Nell'attesa che qualcuno… Armando, ha alzato la mano, vuoi intervenire? Attiva il microfono, perfetto. Devi forse staccare le cuffie che danno… No? Allora, nel frattempo che il nostro amico Armando mette a posto l'audio, volevo ragionare con te su una parola che mi aveva molto colpito con il nostro amico della scorsa volta, della scorso incontro, cioè il tempo dei borghi, che è un tempo, come dire, di una dimensione diversa, e come questo tempo di dimensione diversa fosse straordinariamente compreso da chi ha diversi ritmi di tempo, ad esempio dagli americani che visitano e accompagnati da Pierfili. E la cosa è straordinaria, nel senso che noi cerchiamo molto l'economia, l'economicità, ma forse ci doveva essere più attenzione alla vita sociale. Quello che ci ha dimostrato la pandemia è che ha rotto una sorta di tabù, cioè la città è bella, a prescindere. No, la città non è bella, può diventare un carcere, può diventare un anonimo. Quello che offre il borgo è una socialità totalmente diversa. Certamente è svantaggiato. Allora, io spero proprio che i progetti non facciano diventare i borghi qualcosa come dire solamente di turismo, ma come hai iniziato te di vivere insieme agli altri in una dimensione più umana. Ecco, questo percorso è vero che ha, come dire, costruito un po' anche la vostra esperienza? Sì, Alfonso, è mancata la voce per qualche istante, ma ho capito perfettamente il senso della tua sollecitazione. Ma guarda, io credo che la pandemia, ma qua l'hanno detto in tanti più autorevolmente di me, abbia necessariamente provocato uno shock sulla nostra società. Poi, se diventeremo migliori, chissà, qualcuno sostiene di no, e forse non siamo diventati migliori perché siamo partiti dai balconi, siamo finiti in una sorta di guerra civile che stiamo vivendo, per fortuna sottesa tra vax e no vax, ma, insomma, probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che questa esperienza ci portasse a una condizione così divisiva dalla grande condivisione contro la minaccia che abbiamo vissuto all'inizio. Certamente ci sono dei fenomeni ormai definiti e studiati, che sono il massiccio, la massiccia fuga da lavori considerati molto penalizzanti sulla propria libertà, cioè dal classico posto fisso, da prigionia, insomma, che tiene tante ore incollate al proprio posto di lavoro. Le aziende si sono interrogate, hanno risposto anche sulla necessità di uno smart working che non è quello che, diciamocelo francamente, è stato sperimentato in questi anni, perché questo è un lavoro da remoto che però spesso ha le stesse caratteristiche di, diciamo, come dire, è un lavoro che dismarta molto poco, cioè stare incollati davanti al computer per otto ore a distanza, lo smart working è altro, lo smart working è un lavoro agile che si fa con una logica che io mi auguro sempre, nel mio piccolo l'ho fatto, lo faccio anche con i ragazzi, con i nostri collaboratori, a me non interessa mai quante ore tu stia seduto davanti a un computer e mi interessa che risultati tu porti a casa. Ecco, io credo che le amministrazioni pubbliche su questo debbano fare una vera rivoluzione, non soltanto nei tempi, ma nell'idea di che cosa è il lavoro. Ecco, il lavoro credo che dopo la pandemia sia stato considerato una possibile molla anche di felicità, intendo dire che si è chiesto alla propria attività improvvisamente che la propria attività lavorativa non fosse soltanto tempo impegnato e spesso strappato alla propria vita, ma a quel lavoro si chiede invece che la propria vita si realizzi e la propria vita si esprima compiutamente, che è poi quello che il lavoro dovrebbe fare. Io ricordo di avere moderato anni fa un congresso con allora Susanna Camusso e la CGL, il congresso era sulla disoccupazione, e ho detto guardi che c'è un'allarme occupazione, cioè l'infelicità degli occupati, che se ci pensiamo è un'infelicità trasversale che va dal mondo della scuola al mondo della sanità, al mondo dei giornali. Quanti di noi si sono chiesti prima della pandemia se il proprio lavoro rendesse felici? Era una domanda che non si faceva neanche. Ora, per carità, lunga pensamento, come si dice in Sicilia, per dire che certamente oggi si è capito, se una cosa ci ha fatto capire la pandemia è che non siamo eterni. Quest'illusione di immortalità che l'Occidente, l'Oriente è molto più bravo di noi, in questo coltiva rispetto e ha coltivato rispetto a un rapporto con la morte sostanzialmente eluso, sostanzialmente non affrontato, invece ce l'abbiamo dovuto affrontare. Quindi capire che il tempo non è infinito, capire quindi che la propria vita è preziosa e devi realizzarci dentro tutto quello che desideri, non è troppo lontano dal tema dei borghi. Perché? Perché immaginiamo, e a volte è a torto, che questi luoghi possano diventare luoghi dove riprendiamo socialità, qualità della vita, benessere. Dico a volte è a torto perché qua ci sono dei sindaci collegati del nostro network, che saluto sindaci, amministratori, eccetera, perché spesso questi borghi che noi immaginiamo come un'arcadia hanno sì delle potenzialità inespresse, speriamo che questa sia l'occasione per fargliel'esprimere, ma sono luoghi di altro tipo di infelicità, perché sono luoghi pieni di anziani, sono luoghi dove i giovani se ne sono andati, sono luoghi dove non ci sono servizi, sono luoghi dove per andare a partorire o a curarti devi fare non so quanti chilometri per un ospedale. Quindi la scommessa si vince nel momento in cui questi luoghi diventano nuovamente dei luoghi dove si strutturano dei network umani che sono importantissimi, ma che danno anche una possibilità, certamente aiuta la banda larga, aiutano tante cose, ma una possibilità di nuova vivificazione, altrimenti ci immaginiamo un borgo che non c'è. Non ti sento Alfonso, è il microfono chiuso? Sì, scusa. Grazie Laura per questa elaborazione di una domanda che non era esattamente chiarissima e sono andato proprio distinto, invece che tu hai elaborato in maniera veramente interessante. Armando, forse... Posso? Mi sentite? Io adesso sì. Ok, avevo problemi con il microfono, non è che non l'avessi acceso. Allora, grazie. Grazie innanzitutto Laura per la bella testimonianza e diciamo sicuramente è molto interessante anche perché sto portando avanti un progetto proprio rivolto alle aree interne, ai borghi, in un'importante banca e quindi qua sto cercando di raccogliere informazioni su questo e sicuramente il tema per me è appunto di quanto da una parte viene sprecato delle ricchezze ambientali e sociali e che quindi non si riescono a valorizzare di quante opportunità vengono sprecate perché i giovani vanno via dai borghi ma spesso vanno a finire nelle grandi metropoli a fare dei lavori assolutamente precari e quindi diciamo con tutto quello che ne sappiamo. E quindi il tema è da una parte consumare lo spreco presente nelle aree interne in termini di risorse inutilizzate e consumare anche lo spreco di opportunità di tutti questi giovani che appunto vanno nelle grandi metropoli che non riescono a trovare e che invece hanno una ricchezza che non riescono a valorizzare. E infine la cosa più assurda diciamo lavoro nella finanza e quindi consumare lo spreco di mancate opportunità perché in giro non è un tema di soldi cioè di finanziamenti di soldi in giro di liquidità è strabordante quello che manca mancano i progetti mancano i progetti sostenibili attenzione io parlo ovviamente dei progetti che quantomeno devono avere un'istituzione del capitale e quindi degli interessi quindi ovviamente non sto parlando di erogazioni a fondo perduto e quindi il tema è riattivare diciamo tutti questi circuiti che in qualche modo sono bloccati e sicuramente ecco qua mi riaggancio uno da un tema di avere uno storytelling e quindi voglio un pochino capire meglio come riuscite a come posso dire rendere cioè costruire uno storytelling in maniera sistematica scusami questo è un mio approccio abbastanza aziendalistico sui bordi dall'altra diciamo e quindi per rendere possibile dall'altra come avete fatto tutto il lavoro di digitalizzazione come se avete fatto un'elaborazione da un punto di vista culturale della presenza nell'infosfera per non diciamo perdersi nell'infosfera ma utilizzare l'infosfera per poter ristabilire degli incontri diciamo grazie a tutto questo aspetto culturale degli incontri dal punto di vista fisico cioè quindi utilizzare cioè perché il tema del cioè il digitale permette di dare permette tanto però deve essere in qualche modo diciamo deve essere tagliato sulla sul tessuto sul tessuto dei comuni italiani che sono dati dalla grande diversità mentre normalmente l'infosfera facciamo un approccio che va bene uno per tutti e buonanotte e quindi se avete fatto elaborazioni su questa cosa qua cioè come utilizzare il digitale per riuscire a far leva da una parte trasmettere i tesori dei borghi siciliani dall'altra riattivare anche le relazioni dentro i borghi e tra i borghi e poi diciamo la mia curiosità io ho visto che ad esempio stanno diciamo alcune ci sono dei progetti europei sulla gravification dei territori tipo algero non so se non sai se state pensate di fare qualche cosa ecco ecco basta allora parto dalla fine e poi vado perché proprio abbiamo fatto due giorni fa una una call con forse lo conoscerai tanto non c'è nulla di con Francesco Moneta The Roundtable FederCulture eccetera che lavora sta facendo un progetto con Fabio Viola quindi del tuo museo legato a una possibilità di valorizzazione congiunta della del patrimonio UNESCO in Lombardia e quindi abbiamo ragionato su anche perché noi abbiamo ci siamo appena tra virgolette federati con un'organizzazione gemella in Sardegna che si chiama Monumenti Aperti con l'idea di costruire insieme una una proposta territoriale che è abbastanza inedita perché queste due isole così diverse e così vicine venticinque minuti di aere in realtà sono delle isole che non si sono mai parlate che potrebbero avere invece un sacco di vantaggi reciproci nel parlarsi e allora l'idea era stata quella di portare un progetto di gamification che conosco bene bene insomma che conosco soprattutto nella sua evoluzione ultima per chi non lo sa ma probabilmente lo sanno tutti è l'idea di applicare la logica del gaming quindi dei videogiochi al patrimonio culturale quindi per altre diciamo evoluzioni più attuali con la possibilità di costruire esperienze online e offline quindi questo gioco lo implementi sia vincendo lo dico molto banalmente ma per farlo capire sia vincendo delle sfide online sia acquistando nei luoghi andando nelle botteghe eccetera 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 quindi è sicuramente una proposta molto interessante che stiamo valutando rispetto alle capacità finanziarie che potremmo ma come tu dicevi il tema in questo momento io lo sostengo più di te i soldi vengono dopo intanto bisogna bisogna che vengano i progetti comunque sì è un progetto che ci interessa e a cui stiamo pensando devo dirti che lo stiamo anche ipotizzando in un sistema di tre comuni che stiamo con cui stiamo collaborando che sono naturalmente perfetti per un progetto di gamification perché ci sono dei personaggi storici che li animano che sono io ho un figlio tredicenne che sono perfetti io già li vedo nelle vesti dell'eroe uomo e della principessa a salvare quindi sono già perfetti per costruirci sopra uno storytelling andiamo alla prima domanda come tiriamo fuori lo storytelling io ti rispondo con il nostro lavoro cioè noi siamo giornalisti e siamo la prima cosa che si insegna a un giornalista che sa fare un giornalista bravo è quello di come si dire avere orecchio per le notizie avere orecchio per le storie cos'è la differenza la differenza è che di solito quando tu vai dal tuo caporedattore e dici ho trovato una bella storia quella storia tu la scrivi sul giornale adesso ve ne racconto una che ho intercettato due giorni fa che è fantastica l'ho trovata anche lì in un borgo e finisce lì il tema è invece costruire intorno a quella a quella storia a quel racconto una serie di attività che vanno dalla fruizione dei luoghi che quel racconto lo incarnano io dico sempre viene prima la storia e poi il luogo dove quella storia noi non apriamo luoghi noi raccontiamo storie nei luoghi che è una cosa molto diversa e credimi che è assolutamente assolutamente naturale ti faccio un esempio anche qui molto pratico ma forse ve ne ho anche in qualche modo parlato sono stata molto colpita l'altro giorno qualche mese fa da una visita in un paese della provincia d'agrigento che si chiama Aragona ed è un paese dove Pirandello vive questo paese che ha oltretutto oltre che ti offre la possibilità di camminare in mezzo alla letteratura in mezzo alla storia tu vedi ancora la palazzina dove Pirandello ha ambientato quella novella il macellaio ormai che non esiste più dove c'è quell'altra novella la storia di un palazzo con le grate dove è stata imprigionata una donna che era impazzita dopo la grande crisi delle miniere che è una storia che attraversa anche la famiglia del grande del grande scrittore ecco questo borgo che peraltro ha anche un borre fantastico un principe è il primato dello spopolamento in Italia cioè il luogo da cui si emigra di più questo cortocircuito tra la potenzialità narrativa di questo posto e vengo al tema dello storytelling è una condizione invece evidentemente vissuta come una condizione dove non hai nessuna scusate un momento ho un fuori programma con mio figlio perdonatemi si parietti da ecco il il cortocircuito di questa enorme potenzialità narrativa e questa fuga precipitosa non vi dico c'è anche in questa in questa comprensorio il parco minerario che racconta una storia pazzesca cioè le miniere siciliane sono state fino per almeno 50 anni un cardine economico non soltanto siciliano e non soltanto italiano ma mondiale fino a quando sostanzialmente l'Inghilterra ve la dico molto banalmente ha cambiato i termini del gioco ma qui c'era un'imprenditoria che veramente governava il mondo ecco tutto questo adesso si comincia a parlare un po' di più dei Florio perché c'è stato il volume di successo dell'Auci ma accanto a quella narrazione ce ne sono moltissime altre che sono valore tu sei un uomo di finanza e di aziende quindi parlo in termini di valore anche di valore di valore economico non soltanto di valore culturale di valore quando ti sento non ti sento perché hai il scusami scusami il tema è certamente io intendevo oltre storytelling l'aspetto specifico proprio come trasformarlo in valore economico se non succede come aragona parco letterario e la gente scaffa ecco come trasformarlo in valore economico esempio torno sempre ad Aragona Aragona ha un parco minerario pazzesco recuperato interamente dalla sovrintendenza ma vuoto non gestito non raccontato non lo vuoi andare a visitarlo perché non c'è neanche un cancello nessuno ha pensato di costruirci sopra un'attività che come dire crei servizi in questa struttura lo renda lo gestisca attragga turismo da tutto il mondo perché è un unicum assoluto questo questo significa però gli aspetti diciamo di gestione di valorizzazione per quello che mi riguarda vengono dopo i contenuti se tu non hai un contenuto sotto qualsiasi azione di marketing è confezionamento del nulla abile per quanto vuoi ma è un gioco che dura molto poco quindi il tema dei contenuti è un tema che sottende secondo me a qualsiasi operazione di valorizzazione rispetto a quello che dicevi la digitalizzazione ma sai la digitalizzazione per noi non è soltanto fine a se stessa come credo di averti appena appena raccontato è uno spazio sicuramente di condivisione di contenuti e di possibilità di racconto di promozione di territori e di luoghi su vasta scala che altrimenti ma che è sempre funzionale all'esperienza fisica è sempre funzionale all'esperienza fisica non so se ti ho risposto Armando forse soltanto in parte se non ti ho risposto no certo il discorso del digitale per ok quello infatti credo che siete abbastanza avanti sul discorso del digitale ecco la mia diciamo una parte della mia curiosità era relativa proprio il viso culturale utilizzare il digitale proprio per fare anche uno storytelling che permetta attraverso il digitale ritornare sul sul fisico ecco cioè perché il tema anche qui perdonami ti ho interrotto ma per fare un esempio molto pratico pandemia no tempo di pandemia noi devo dire questo lo riconosco ma non a me credo a tutti noi la scelta più facile era spostare il progetto sul web come hanno fatto tanti forse tutti noi ci siamo attrezzati per realizzare delle audioguide dei luoghi perché erano proibite come sapete le visite in quel momento non le visite in presenza i luoghi erano aperti ma non potevano esserci visite guidate che per noi sono il fondamento appunto il racconto di uno spazio abbiamo realizzato a tempo record delle audioguide molto speciali appunto partecipate realizzate da giovani esperti del patrimonio eccetera eccetera le abbiamo connesse al sistema di booking che abbiamo costruito il nostro che chi dicevo è un my ticketing ed i book poi con un cuore consente di trasmentare i luoghi di agganciarlo a più luoghi noi storicamente per il festival facciamo un sistema che ti consente di avere un coupon da dieci visite con cui diversamente dieci luoghi diversi senza occuparti di quanto costi uno di quanto costi l'altro di titolarità di uno di titolarità dell'altro in quel caso smarcavi il coupon il coupon è connesso all'uguida che ti raccolava quello spazio e quindi l'esperienza fisica in realtà è stata possibile esclusivamente grazie al digitale grazie alla tecnologia potrei farti mille altri esempi però per noi è sempre stato un uso funzionale alla poi ci sono mille altre noi stiamo lavorando alla realizzazione di un di uno spazio immersivo e di racconto al porto di Palermo Palermo non ha mai avuto un museo della città e pensa che Palermo come sai ha una storia estremamente complessa e stratificata e quando parlo di museo della città parlo di uno spazio che racconti in breve molto come dire trasale quindi a più pubblici che racconti dove dove sei finito nel senso bene io poi posso approfondire dalla pre-storia a Liberty al Novecento eccetera però devo capire per me è stato illuminante l'esperienza di un piccolo museo ad Amsterdam che si chiama Museo dei Canali ero ad Amsterdam da tre giorni ed Amsterdam è una città facile rispetto a Palermo con servizi e anche con una storia molto più semplice da raccontare al terzo giorno ho beccato il Museo dei Canali che in quattro stanze di un'esperienza immersiva mi ha raccontato che cos'era Amsterdam e da lì innesti poi le esperienze fisiche quindi io credo che l'interazione tra le due tra i due piani tra le due dimensioni sia poi insomma declinabile davvero in ogni modo grazie grazie Armando grazie Laura mi è sembrato di vedere una mano alzata di Alex o mi sono sbagliato vuoi intervenire? no? non ti sentiamo? ecco che forse mi sentite adesso sì vai vai sì sì vai benissimo sì allora Laura grazie perché poi hai iscritto all'ordine iscritto all'ordine dei giornalisti iscritto all'ordine dei giornalisti dal 1985 come semplice pubblicista ovviamente ho apprezzato e mi sono bevuto ho assaporato tutto quello che hai detto indirettamente volevo rispondere anche un po' ad Armando perché al di là della bellissima discussione di quello che noi possiamo costruire sempre borderline su una situazione di storytelling e story selling il problema è poi dopo la conversione di un'offerta che noi possiamo avere chiamiamola offline e chiamiamola online su effettivamente un visitatore che alle 23 e 30 ha una carta di credito e vuole andare da qualche parte allo smartphone in mano allora indirettamente questa opportunità nasce dagli operatori turistici che sono presenti perché se gli operatori turistici non sono in rete e non c'è una filiera d'accoglienza diffusa è importante che possa accogliere il turista noi possiamo fare quello che vogliamo fantascientificamente quello che ha espresso Laura per quello che è stato fatto è proprio fantascienza per molti borghi e molte realtà ma se gli operatori non sono partecipi di questi programmi e di quella che è la consapevolezza di una destinazione e come questa possa emergere nella competitività che a questo punto non è nazionale ma è internazionale perché se io ho 600 euro in tasca devo capire dove voglio andare e la situazione di rimbalzo su qualsiasi offerta che possa essere o su carta stampata o che possa essere su digitale gaming o meno alla fine non mi porta da nessuna parte quindi la forza in questo momento dal mio punto di vista per quanto riguarda la mia opinione la mia attività è basata proprio sulla filiera dell'operatore che può fare la differenza io a chi alle 23.30 do dei soldi per fare cosa a prescindere scusate ho un attimo di Matrix perché ho visto un gatto passare da Scalano è interessato ai borghi è venuto qui ad assaporare queste informazioni questo è stato proprio Matrix per cui va benissimo per cui per rispondere indirettamente ed aggiungere qualcosa ecco che la filiera degli operatori degli operatori presenti più o meno distanti ma che possano comunque creare un'offerta che possa essere attrattiva sia per l'evento sia per l'esperienza può fare effettivamente la differenza questo volevo dire grazie grazie Alex se non ci sono altri ah Antonio non so se però c'è il tempo per se posso fare alcune considerazioni alcune domande oppure no vai Antonio due minuti ce li possiamo concedere innanzitutto volevo complimentarvi complimentarmi con Laura e ringraziarla per tutto quello che ci ha raccontato e quando sento Laura o quando ho sentito anche per su altri temi per Filippo Spotto la considerazione che mi viene da fare è che sono veramente molto bravi troppo bravi e questo da un lato non si può che apprezzare questa loro bravura dall'altro viene da dire poi che i borghi sono 5000 e i bravi sono decisamente veramente pochi no e in un momento in cui se si fa un attimo riferimento alle situazioni economiche e imprenditoriali in un momento in cui tutte le attività piccole autonome cioè quelle che tra virgolette si potrebbe dire che nascono dal basso sono profondamente in crisi e si affermano le reti di franchisi ma in particolare le grandi piattaforme quindi tutto quello che cioè buona parte di quello che riguarda il commercio i servizi il turismo sempre di più c'è uno spostamento dall'attività piccola autonome alle grandi reti e alle piattaforme e questo mi solleva fa nascere alcune perplessità peraltro già accennate da Laura sul fatto che questi borghi nella situazione in cui si trovano con la popolazione non più giovane non più dinamica che hanno come riescano a fare progetti dal basso che siano in qualche modo poi realizzabili ma soprattutto sostenibili nel tempo e su questo avrei veramente molte perplessità mi verrebbe da dire da chiedere e ho apprezzato anche gli accenni che ha fatto Laura al gaming ecco forse e volevo chiedere il parere a Laura se la strada non sia quella di produrre degli strumenti in modo tale che questi strumenti possano essere utilizzati da un numero di borghi anche consistente anche da parte di quelli che non hanno delle persone così brave a fare progetti tenendo conto del fatto che anche quando Armando parlava di che servono i progetti ma non è facile fare i progetti soprattutto non è facile fare progetti che reggano i due mesi di tempo per fare i progetti sono veramente una follia normalmente progetti di modelli di business di modelli di attività che funzionano richiedono dei tempi lunghi per metterli a punto devono poi essere ritarati periodicamente successivamente nel tempo quindi quello che manca e che tanto sostengo in questi nostri incontri è il know-how per questa rivitalizzazione dei borghi e questo la mancanza di un know-how che possa essere generalizzato fa sì che solo certe esperienze molto virtuose si affermino e tutti gli altri borghi non siano in grado di invertire questa loro situazione in cui si trovano ci saranno molte altre cose da dire ma manca il tempo quindi mi fermo qui grazie grazie Antonio per questa tua riflessione Laura hai due parole ma guarda è veramente complicato Antonio pone problemi profondi ed è difficile rispondere in pochi in pochi istanti forse soltanto una cosa se non servirà a costruire progetti di impresa sostenibili perché di quello stiamo parlando quindi chissà dopo il 2026 i 25 fortunati vincitori in Sicilia non sapranno portare avanti i loro progetti però forse mi auguro che sia una scossa che costringe in questo momento amministrazioni abituate finora ad avere soldi io l'altro giorno parlavo con un comune diceva noi abbiamo avuto cinque volte il finanziamento per la segnaletica infatti non si sa più perché con varie misure cinque volte la segnaletica quando poi non c'è neanche un progetto di interpretazione culturale ambientale coerente ecco forse tutto questo sarà mi auguro una scossa per imparare a progettare in un modo diverso dopo di che vi ringrazio tutti grazie grazie Laura grazie Alex grazie Antonio grazie Armando grazie a tutti ecco con con questa testimonianza si chiude il ciclo di quattro incontri che potete ritrovare poi nelle registrazioni nella nostra chat abbiamo cercato di dare un contributo a in questo momento storico con questi forti finanziamenti anche un contributo critico ecco perché potevamo anche forse aspettarci di più certamente vediamo il futuro come come gruppo osservatorio dei borghi sarà bello trovare delle formule e forse intuisco che la formula delle incontri e delle testimonianze sia la cosa più più utile e più pratica grazie a tutti e una buona serata grazie 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 a tutti